Musica Buongiorno e bentrovati al telegiornale di TVL. Tg che iniziamo con la cronaca che ci porta a Chiesina Uzzanese. Scontro tra tre veicoli, due auto e un furgone. Questa mattina intorno alle 11.30 in via provinciale romana in località Chiesa Nuova. Per cause ancora da accertare un'auto che si stava immettendo sulla via principale ha urtato un'altra vettura proseguendo la sua corsa contro un furgone anch'esso in transito lungo la provinciale. Sul posto sono accorsi i soccorritori delle pubbliche assistenze di Uzzano e di Chiesina Uzzanese che hanno prestato le prime cure ai conducenti delle due automobili. Per disciplinare il traffico e per effettuare i necessari rilievi sono intervenuti anche gli agenti della locale polizia municipale. Gravi le ripercussioni sul traffico della zona. E adesso le principali notizie di questa mattina con il nostro sommario. Non si placano le critiche per le condizioni dei pronto soccorso in Toscana. Una protesta c'è stata anche davanti all'ospedale di Pescia dove la situazione è stata definita fuori controllo. Ricostituito il collegio dei revisori, riattivato il comitato scientifico in via di ricostruzione, i bilanci mancanti e la dimensione del patrimonio artistico, il commissario della Fondazione Marine ha stilato un primo bilancio del suo lavoro. La provincia di Pistoia è sempre più scelta dai turisti come meta per rilassarsi tra natura, sport e benessere. A dirlo è l'Istituto Nazionale Ricerche del Turismo in un report realizzato insieme ad Union Camere. Andiamo dunque a Pescia dove c'è stata una protesta per la situazione del pronto soccorso dell'ospedale. Il problema di congestionamento dei pronti soccorsi toscani sta riguardando anche l'ospedale Santi Cosmo e Damiano di Pescia. Qui si è riunita una piccola delegazione del gruppo Rinascere in Val di Nievole che da tempo presta attenzione alle problematiche legate al presidio ospedaliero Pesciatino. Una situazione che vede pochi finanziamenti, pochi operatori e tanti pazienti in coda. Una condizione di grave difficoltà per cui Rinascere in Val di Nievole ha deciso di farsi sentire per garantire un servizio migliore ai cittadini e un aiuto per chi lavora nel reparto di medicina d'urgenza di Pescia. Un pronto soccorso a dir poco al collasso. I tagli strutturali e ormai cronici del personale che sono stati fatti nel corso degli scorsi anni ha visto i suoi effetti, ha sortito i suoi effetti da un numero complessivo di operatori al pronto soccorso nel periodo pre-covid di 17 siamo arrivati adesso ad avere un numero di soli sei operatori con turni massacranti cui si tenta di sopperire tramite, chiamando gettonisti dall'esterno tramite gli specializzanti che vengono inviati dalle sedi universitarie e i turni come detto rimangono massacranti gli avvisi fatti dal sindaco, le rassicurazioni fatte sulle nuove assunzioni che verranno fatte entro fine gennaio sono sicuramente positive speriamo che non finiscano nel fumo come tante altre promesse e rassicurazioni che sono state fatte in passato anche su riaperture di diversi reparti e su piani strutturali di assunzioni che alla fine per l'appunto non sono stati resi concreti che cosa vi auspichate quindi? ci auspichiamo che il personale promesso in emergenza entro il 31 gennaio ci sia veramente e che da quel momento in poi si lavori per un piano strutturale di assunzioni perché i 14 miliardi del PNRR per la ristrutturazione e le strumentazioni non sono sufficienti se non c'è personale quindi ci auspichiamo che venga potenziato con il nuovo personale e assunzioni alla vigilia della fine dell'anno il commissario della fondazione Marino Marini Raffaele Ruberto ha tracciato un bilancio del lavoro svolto fino ad oggi il primo risultato è stata la ricostruzione del collegio dei revisori l'atto permetterà, spiega il commissario la formazione ed approvazione dei bilanci mancanti degli ultimi esercizi in questi due mesi, ha aggiunto, sono stati presi contatti con gli istituti di credito che hanno rapporti con la fondazione per definire la situazione finanziaria dell'ente è stata inoltre avviata insieme alla sovrintendenza di Firenze un'attività per definire il patrimonio artistico della stessa fondazione ulteriore fronte di intervento è la ripresa delle attività del comitato scientifico ed il confronto con il comune di Pistoia per superare la situazione di stallo dell'attività museale nei prossimi mesi, spiega ancora il commissario, con il sostegno delle istituzioni ed in particolare del prefetto di Pistoia, Alicia Donatella Messina si confida di raggiungere ulteriori importanti risultati nei giorni scorsi intanto la fondazione Marini ha presentato l'annunciato ricorso al TAR contro il commissariamento voltiamo pagina, parliamo di economia ed in particolare di export è stato infatti diffuso il report di Confindustria sull'andamento del terzo trimestre 2023 per quanto riguarda le esportazioni Pistoia, stabile, va meglio di Lucca e di Prato Confindustria Toscana Nord ha pubblicato il report sull'export manifatturiero relativo al terzo semestre 2023 per i territori di Lucca, Prato e Pistoia che vede quest'ultima segnare unica un seppur flebile segno positivo più 0,3% sullo stesso periodo del 2022 a fronte di un calo di quasi il 6% della vicina Prato e del 3% circa di Lucca tre però le premesse necessarie per leggere correttamente il dato la prima riguarda il fatto che nella seconda parte dell'anno il rallentamento economico si è fatto più intenso un po' ovunque in secondo luogo i dati Istat registrati nel report non indicano i volumi ma solo il valore della merce esportata su cui incidono i costi di materie prime, energia e gas oltre che i prezzi di vendita dei prodotti in ultimo il confronto con il 2022 particolarmente positivo per il rimbalzo post-covid può risultare penalizzante specialmente per alcuni settori fatte le dovute premesse però a Pistoia l'andamento risulta di fatto stabile senza troppi scossoni in nessuno dei settori più rilevanti anche se per quanto riguarda il tessile moda si registra un dato negativo come accade anche nel distretto pratese in tutti i vari ambiti compreso il calzaturiero eccezione fatta invece per l'abbigliamento e la maglieria bene l'alimentare e anche il ferroviario gomma, plastica, chimico, apparecchi elettrici e cartario sono invece accomunati da prestazioni negative che scontano però il confronto con un 2022 di grandi risultati non va bene neppure il settore dei mobili incluso quello dei materassi parliamo adesso di turismo la provincia di Pistoia è considerata la destinazione migliore per rilassarsi tra tutte quelle della Toscana a dirlo è lo studio realizzato dall'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Union Camere relativo alla prima metà del 2023 sul territorio provinciale l'interesse specifico è per l'offerta wellness del territorio che si sostanzia in vari ambiti la ricerca della natura con escursioni, egite, centri benessere ed anche attività sportive anche internet in 6 casi su 10 influenza la scelta del soggiorno dato positivo il 31% dei turisti torna nella provincia per rivivere una piacevole esperienza di vacanza la spesa media giornaliera è tra le più alte nel confronto tra province 79,5 euro quella per l'alloggio si ferma a quota 56 euro in generale nei primi sei mesi dell'anno nella provincia di Pistoia gli arrivi sono stati più di 430 mila e si raggiungono più di un milione di presenze con una decisa crescita degli arrivi di turisti stranieri il flusso più importante si riscontra nel territorio della Val di Nievole sul territorio pistoiese la clientela turistica permane una media di due giorni e mezzo leggermente più lunga la durata delle permanenze straniere rispetto a quelle del turismo interno andiamo a Montecatini che si prepara come in tutta la provincia ai cenoni dell'ultimo dell'anno andiamo a vedere quindi come si stanno preparando i ristoranti per la notte di San Silvestro tra chi ha già organizzato tutto da Ferragosto a chi non sa ancora che pesci prendere l'ultimo dell'anno del 2023 è sempre più alle porte anche i ristoranti e i locali di Montecatini si stanno preparando ad accogliere i clienti con tante prenotazioni e pochissimi posti ancora a disposizione la clientela ha risposto bene ci abbiamo tanti prenotati siamo quasi al top le prenotazioni stanno andando molto bene abbiamo gli ultimi quattro tavoli da vendere diciamo quindi in linea con gli anni scorsi tutto molto regolare il 31 siamo pieni noi abbiamo agevolato molto le famiglie con i bambini noi poi abbiamo scelto di fare menu alla carta senza menu fisso senza prezzi fissi per cui ognuno è libero di mangiare quello che vuole su che menu avete puntato? noi abbiamo puntato su dei menu fissi menu di mare e menu di terra abbiamo puntato a fare un menu semplice per rispettare i tempi e la qualità visto le tante prenotazioni che abbiamo per non creare poi disguidi nel servizio un menu legato a tradizione ma con qualcosa di innovativo ci sarà quindi sì il pesce sarà un menu diciamo molto ricco con materie prime di altissima qualità per festeggiare il nuovo anno nel migliore dei modi si dice che il 31 è tradizionale il pesce però anche la carne va moltissimo sì sì noi facciamo anche negli anni passati abbiamo sempre visto che carne e pesce la gente apprezza tutte e due un ultimo dell'anno che è atteso col sorriso ma anche con la speranza di poter vivere un 2024 migliore soprattutto per il settore turistico cittadino è storicamente un momento in cui la città è molto molto piena lo sarà di sicuro anche quest'anno abbiamo avuto un Natale, un capellino più sottotono in città con tanti alberghi purtroppo chiusi ma il ristorante ha lavorato comunque sia molto bene l'ultimo dell'anno è una serata che normalmente diciamo ha degli ottimi risultati qui da noi le persone si divertono, riusciamo a farle stare bene Montecatini è una struttura che potrebbe ospitare grandissimi eventi a livello mondiale e purtroppo mancano ecco perché sono gli eventi che portano che portano turismo e sul tema è arrivata anche una nota di ConfCommercio che annuncia come in provincia di Pistoia il cenone di San Silvestro faccia registrare il tutto esaurito tra buona parte dei ristoranti a fare la differenza saranno specialmente i grandi gruppi di amici quelli che effettuano prenotazioni di tavolate intere ma anche coppie e famiglie concorrono al successo annunciato uno scenario scrive ConfCommercio che manifesta evidentemente la voglia delle persone di trascorrere momenti di serenità insieme dopo un periodo caratterizzato da difficoltà non secondarie questo consente, continua ConfCommercio al settore della ristorazione di entrare con una spinta positiva nel nuovo anno facendo d'attraino all'economia del territorio puntando sulle eccellenze enogastronomiche e sulla socialità che solo questo contesto sa generare e la fine dell'anno è l'occasione anche per stilare un bilancio da parte di Avis Pistoia il 2023 si chiude a livello locale con circa 100 donazioni in meno da qui un appello dell'associazione per trovare soluzioni C'è bisogno di metsi a tavolino e trovare le soluzioni ai problemi chiaramente con più medici, con più infermieri con più possibilità di intercettare quelle che sono poi le richieste dei donatori Così Glizzannerini, presidente dell'Avis Pistoia commenta i dati della raccolta sangue nel 2023 nel comune capoluogo il bilancio dell'anno infatti si avvia a chiudersi con uno dei passivi più alti degli ultimi tempi circa 100 sacche in meno raccolte Chiaramente se si chiude un giorno a Quarrata un giorno a San Marcello un giorno a Monsumano la raccolta che debba crescere diventa problematico e pertanto c'è bisogno di mettersi a tavolino e trovare soluzioni ai problemi Bisogna avere più slot disponibili più disponibilità noi abbiamo 9 plasma ogni giorno 17 sangue bisogna aumentare il numero degli slot disponibili per far sì che si incrementi la raccolta Un dato visto con preoccupazione dall'associazione che indica tra le soluzioni per invertire la tendenza l'andare incontro ai bisogni dei donatori Se il sabato il donatore chiede di venire a donare bisogna potenziare quei giorni lì perché gli altri giorni con i tipi di lavoro che sono cambiati è ridotta la raccolta i sabati e le domeniche sono quelli che sono chiaramente maggiori chiesti e bisogna andare a dargli risposte Il bilancio a livello toscano spiega l'Avis regionale si chiude con un dato complessivo positivo più 277 sacche pari a una crescita dello 0,3% un 2023 che ha visto un aumento dei donatori più 4% sull'anno precedente un nuovo socio su due donna anche se il numero medio di donazioni di ciascuno è in leggero calo L'incremento a livello regionale è proprio minimo la cosa positiva è che quest'anno non siamo ricorsi ad altre regioni come aiuti per quanto riguarda appunto la raccolta abbiamo fatto con quello che abbiamo raccolto e questa è una cosa molto positiva Per quanto riguarda lo sport è in corso in questo momento la conferenza stampa del Pistoia Basket con coach Nicola Brienza in vista della partita di domani a Treviso tutti i dettagli ovviamente ve li daremo nel corso del nostro TG Sport di questa sera Questa era l'ultima notizia io vi ringrazio di averci seguito e vi lascio alla programmazione di TVL che vede subito dopo il nostro telegiornale è un film il cucciolo film drammatico del 1946 vincitore di due premi Oscar a seguire alle 17.30 speciale Nicola Gratteri a Pistoia alle 18 giallo Pistoia trasmissione condotta da Maurizio Gori e Giuseppe Previti dell'associazione Amici del Giallo di Pistoia dedicata alla letteratura gialla e noir l'informazione su TVL torna come ogni giorno alle 19 grazie di averci seguito e buona giornata